Siamo in compagnia di Paolo Ilariuzzi, direttore commerciale di Suzuki. Che cosa avete portato quest'anno come novità al Salone? Abbiamo addirittura tre novità mondiali, tre tre prime svelate qui pochi minuti fa al Salone di Genova. La prima, i motori, il 150 e il 175 rivisitati in chiave più moderna, più innovativa, con le tecnologie che contraddistinguono i prodotti Suzuki, nella livrea bianca e nera, sono disponibili a partire dal prossimo mese di novembre. Inoltre abbiamo rinnovato la gamma dei motori più piccoli, quelli nella fascia dai 6 ai 20 cavalli, sono presenti anche in livrea di colore bianco. La novità forse più importante riguarda gli strumenti. Gli strumenti Suzuki, multifunzione, disponibili a partire dal 7 pollici fino ad arrivare al 16 pollici, attraverso i quali è possibile avere qualsiasi tipo di informazione sulla profondità delle acque, sulla dimensione dei pesci addirittura stazionerà radar, meteo e ovviamente i dati del motore che saranno sempre tutti a disposizione e ben visibili a chi conduce l'imbarcazione. Naturalmente qua al Salone di Genova avete portato non solo le novità, ma anche i prodotti che vi hanno reso Suzuki oggi. Che cosa avete esposto? Allora, abbiamo tutta la gamma, ovviamente. Se dovessi dire, spendere una parola in più su due modelli in particolare, la spenderei sul 40 cavalli, che è un motore, chiaramente il motore adatto ai senza patente, che ci ha dato un sacco di soddisfazioni in questa stagione grazie alle ottime vendite, tecnologie innovative, peso leggero, consumi bassissimi, e al 3.50 che abbiamo lanciato lo scorso anno proprio qui a Genova, che è un concentrato di tecnologia doppia elica, quindi per prestazioni entusiasmanti, eccellenti, bassi consumi anche su un 3.50. Quindi diciamo sono i due volti del brand Suzuki, che vuole essere vicino alla gran parte dei diportisti, ma sa anche produrre un motore che ha un concentrato tecnologico unico nel suo genere. Ringraziando Paolo Ilariuzzi e tutto lo staff di Suzuki, dallo stand Suzuki, il Salone Nautico è tutto.